Ciao, sono Mariano Gennari, sono il nuovo sindaco di Cattolica, sono del Movimento 5 Stelle dal 2010 nel gruppo di Rimini, poi abbiamo creato il Metup di Cattolica e nel 2016, quest'anno, ci siamo presentati per la prima volta alle elezioni comunali e il risultato è stato magnifico, i cittadini hanno ascoltato il nostro messaggio, evidentemente gli è piaciuto. Cosa dice il nostro messaggio? Il nostro messaggio dice che vogliamo far tornare la voglia ai cittadini di governare insieme a noi la città, quindi partecipare alle decisioni, condividerle, avere una città che finalmente torni nel 2000, una città che non subisce più i rifiuti ma che li sa gestire, li sa non produrre, una città che guardi anche il risparmio energetico, non più piani urbanistici che ti offrono camere di albergo o piani in più, ma un qualcosa che sia premiante per la qualità della nostra vita e soprattutto per la qualità del nostro pianeta. è stupendo che vai dei cittadini, gli parli di queste cose e ti capiscono e ti votano e quindi insieme cominciamo questa bellissima avventura che durerà 5 anni, che ci porterà a avere una comunità diversa e una città diversa.